Buongiorno e benvenuti con il telegiornale di Cano e Tottuno Lazio. Vediamo le ultime notizie a partire da una tragedia che si è verificata ieri sull'alnia ferroviaria a Priverno dove un uomo è stato investito da un treno in transito nei pressi appunto della stazione di Priverno. Lo scalo ferroviario è stato subito raggiunto dai senatati del 118, dalla polizia e dai carabinieri ma per l'uomo non c'è stato niente da fare e da quanto si apprende la vittima è un cittadino di origini straniere. Non è al momento chiara anche la dinamica di quanto è accaduto, gli accertamenti fino a ieri sera erano ancora in corso da parte della polizia ferroviaria e il traffico appunto ha subito delle limitazioni e è tornato regolare soltanto nel primo pomeriggio. Più che altro l'errore 14.30 sul linea Roma-Napoli, via Formia, la circolazione ferroviaria è tornata mano a mano ad essere regolare. Sempre nel Basso Lazio a Fogni una ragazza di 27 anni ha perseguito e minacciato con un coltello un ragazzo di 28 e così è stata rinviata a giudizio per atti persecutori dopo che è stata denunciata appunto dal giovane del quale si era invaguita e che è continuato a tormentare come detto arrivando anche a puntargli un coltello alla gola. L'accusa della quale dovrà rispondere davanti al giudice del Tribunale di Latina è quella appunto di atti persecutori e il giudice per le indagini preliminari appunto l'ha rinviata a giudizio. Il processo per i suoi confronti è iniziato lo scorso, pardon, inizierà il 25 novembre del prossimo anno. Si avvalza invece la facoltà di non rispondere davanti al GIP, ma ricetta Tirrito, paladina antimafia finita in carcere nei giorni scorsi nell'ambito di un'inchiesta su presunti raggiri ai danni di anziani. La donna da mercoledì scorso ha iniziato uno sciopero della fame e della sede perché si sente vittima di un'ingiustizia. A quanto riferito dal legale della stessa donna, il giudice ha rievocato la custodia cautelare in relazione all'accusa per omicidio con dolo eventuale. Il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, torna sulla vicenda del Covid e annuncia un open day per i vaccini nel Lazio dicendo che stiamo quindi studiando anche gli open day per la vaccinazione che dovrebbero partire a breve e lo ha detto a margine di una conferenza stampa dopo la giunta straordinaria dei giorni scorsi a cui ha risposto anche Alessio D'Amato, ex assessore alla sanità del Lazio, dicendo sembra che Rocca si sia finalmente accorto che esiste il Covid, meglio tardi che mai, ora però bisogna organizzare una vera campagna vaccinale e recuperare il tempo perso. Passiamo al calcio, oggi il Fosilone affronta il Lecce alle ore 15, la partita si giocherà in casa dei Salentini e sarà un altro scontro diretto per la salvezza. I sociali non hanno ancora mai vinto in trasferta in questo campionato, Di Francesco non ha ancora diramato l'elenco ufficiale dei convocati e anche oggi potrebbe esserci qualche defezione tra i giallazzurri. Chiudiamo così il telegiornale di Canale 81 Lazio, vi ringraziamo per averci seguito e vediamo appuntamente ai prossimi notiziari. Grazie